Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul, che di solito io non ne faccio mai questi video haul, per quanto riguarda Primark. Ebbene sì, ci sono stata di recente. Allora, iniziamo subito nel farvi vedere le cose. Ovviamente, ovviamente, alcune cose già le ho indossate, però a voi. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questo paio di jeans. Mi serviva un paio di jeans nuovo, perché gli altri sono tutti un po' rovinati, quindi ho voluto prendere questo paio di jeans. La misura è 44, non so a chi serve la misura, però la 44. E io questi jeans l'ho pagati, l'ho pagati. Quanto li hai pagati? Non mi ricordo, vabbè, sicuramente ce l'ho scontrino. Lo scontrino sarebbe 13 euro. Sì, tutti e due paio è 13 euro. Ho preso questo jeans così, è a vita alta. Mi piace tantissimo il lavaggio, che è abbastanza chiaro. La gamba è dritta, fino al polsino di sotto. A me piace tantissimo il fatto che sia così, di questo lavaggio, che sia tipo a gamba dritta. È a vita alta, non altissima, però a me piace proprio il modello. E la parte di dietro è così. Non so se si vede. È così. È della marca Denim Co. Di Primark. E questo è il primo pantalone, 13 euro. Il secondo pantalone, che è questo, l'ho utilizzato. Sempre a 13 euro. E di questo lavaggio qui, grigio. Mi è piaciuto tantissimo. L'ho messa con una magliettina bianca e nera. Era proprio comodo, mi stava perfetto. Proprio io, per quanto riguarda i jeans, di solito, o sono troppo corti, o sono troppo larghi. Ho sempre difficoltà. Invece questa mi è piaciuta tanto. Il lavaggio è questo, con il grigio. Anche questa è la 44. E anche questa è il prezzo 13 euro. La parte di dietro è così. A me i jeans piacciono che hanno questo bordino. Non mi piacciono che sono tagli a vivo. Non mi piacciono queste cose. Io non ho mai accorciato i jeans. Quindi non ho di questi problemi. Poi, una cosa che ho preso è questo. Che è un lip plumping e un lip gloss. Ed è questo qui. No, non è un lip plump. Allora, è un lip esfoliatore. Quindi un lip scrub. E poi un plumping lip gloss. Che è questo. Adesso andiamo a vedere com'è. Allora, il prodotto in questione è questo. Questo qua. E ti fa un leggero scrub. Ve lo faccio vedere. Si, si, si sente. Fa un leggero scrub sulle labbra. E poi, questo è il lip plumping lip gloss. Vediamo questo. L'applicatore è così piccolino piccolino. Ah, è un lip gloss trasparente. Questo me lo metterò in borsa. È bello piccolo. E questo, non so se si vede, ma è trasparente. Non so se si vede. Ecco, quella che luccica è il lip gloss. Comunque, carina come cosa. Lo metterò in borsa. Questo qui. Poi, ho preso un pacco di salviettine. Che sono queste qui. Una me la sono portata in vacanza. Quindi il pacco è compreso di due pacchetti di salviettine. A un euro e cinquanta. Ogni pacco, quante ce ne sono? Venti. Questi sono quelli cleanser. Quindi le salviettine da borsetta. E sono biodegradabili. Quindi sono ottime. Io queste le porto tipo in borsa se il viaggio. Oppure vado tipo da qualche parte. Anche ho uno spostamento. Anche uno spostamento veloce. Io queste in borsa ce le ho sempre. Per la qualsiasi. Io ad esempio se vado nei supermercati. Ovviamente tocchi le cose. Se i prodotti e tutto. Poi arrivate in macchina subito le salviettine. Quindi li porto sempre. Una confezione di gomme. Queste le compriamo sempre. A un euro e trenta. Poi cosa ho preso? Ho preso uno shampoo secco. Sinceramente lo volevo provare. Perché ho sentito parlare benissimo di questo prodotto. E ho detto ma io non li utilizzo. Perché io quando vedo che i capelli non stanno bene. Che hanno bisogno di essere lavati. Io li lavo subito. Quindi non sto tanto. Però voglio provare perché dicono che dia un po' più volume. Io ho la permanente. Lo sapete tutto la permanente. Ma automaticamente mi si afflosciano. Tipo come se io avesse un macigno in testa. Ora non lo so cosa io ho in testa. Ma comunque. Dicono che questo dia un po' di volume ai capelli. Quindi l'ho voluto prendere. E vi ho detto il prezzo. Un euro e cinquanta. Poi. Un altro prodotto che ho preso. E' questo. Questo però l'ho preso nel negozio. Quello accanto. Se non mi sbaglio. Nel negozio accanto. Che è della marca Minisaw. Questo. Mi serviva. Un. Uno spruzzino. E quindi l'ho preso. Di questo però. Vediamo se c'è lo scontrino. Sì. No. Questo non è. Eccolo qua. L'ho preso. Un euro e cinquanta. Mi serviva. Perché l'altro l'ho messo. Comunque sto dividendo alcuni prodotti. Per scenderli anche sotto. E utilizzare sempre lo stesso. Perché mi sono accorta che. Avevo aperto una crema. L'ho lasciata sotto nel bagno. Automaticamente. Quella che c'era qua sopra. Perché in estate io non mi sono proprio truccata. Faceva leggermente puzza. E quindi ho deciso che. Alcuni prodotti. Che sto utilizzando. In questo periodo. Li porterò. Metà qua sopra. E metà sotto. Così da utilizzarli. E finirli. Senza buttarli. Perché non sono più buoni. Poi. Un altro prodotto. Me lo sono dimenticato. C'era anche questo. Quindi ne ho presi due. Invece. Erano tre. Confezioni di questo genere. Io ne ho presi due. Quindi. Mi sembrava di non averla preso. Questo è un liquid lip scrub. Ed è un. L'altro invece. Lip hydration. Quindi un. Lip idratazione. Idretanti. Idretation. Sons. 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 Sono un po' chiasata. Di fare il video. Questi sono i due prodotti. E quindi abbiamo. Questo che è un liquid lip scrub. Quindi farà dello scrub. Io non lo apro. Perché ho aperto l'altro. Che è questo qui. E poi. Questo abbiamo. Un lip hydration. Quindi per dare un po' di idratazione. Alle labbra. Allora. Continuiamo. Poi. Ho preso. Delle scarpe a mio figlio. Ho preso queste scarpe. Perché. Sinceramente. Costavano tre euro. Lui già li possiede. E si è trovato benissimo. E quindi glielo ho voluti prendere. Un altro paio. Questo è il 46. Che almeno prende il 47. Però li calzano. Benissimo. Queste scarpe poi le ha prese. Un altro modellino. C'è un altro disegno. Ovviamente. Nel reparto femminile. E anche la mia migliore amica. Che poi vi metterò. Un piccolo video. Comunque sono molto molto belle. E lui si trova benissimo. Con queste scarpe. Poi. Per l'altro figlio. Perché ovviamente io ho dei gemelli. Quindi se compro una cosa una. Compro l'altro. Anche se il prezzo non interessa. Gli ho preso. Quest'altra magliettina. Perché Andrea la scorsa volta ha preso delle magliettine con questa marca qui. E si è trovato benissimo. E quindi gli ho voluto prendere questa qui con il nero. Ma con la scritta arancione. Fluo. Ed è molto molto bella. È semplicissima così. E poi la parte di dietro è fatta in questa maniera. Andrea di solito prende delle magliettine semplici semplici. Però queste qui con questo disegno così gli sono piaciute. Quindi gliel'ho voluta prendere anche a lui. Poi. Cosa ho preso poi? Ho preso un regalino per Chloe. Che sarebbe questo. Questo ha una borraccia e la ciotolina dove Chloe dovrebbe bere. Adesso ve la apro e ve la faccio vedere. Il prodotto in questione è questo. Vedete è una bellissima borraccia abbastanza grande e capiente. Con attaccato la ciotolina che adesso vi faccio vedere. Questa qui è ottima perché vedete è sottile sottile. Però poi quando la apriete. Io una così l'ho presa da Shane. Però si è rotta e quindi non ce l'aveva più Chloe. E si riempie in questa maniera. Potete mettere sia i croccantini che portate in giro e sia l'acqua. Poi si richiude. Io la facevo sgocciolare un pochettino. Si richiude e l'attacco al cinturino del collare di Chloe. E poi ho preso questo. E vi faccio vedere questa cosa particolare. E ve la faccio vedere. Vedete? Ha due entrate. Potete mettere sia i croccantini da un lato e l'acqua dall'altro lato. Oppure tutte e due acque. Non ha importanza. Perché? Quando si richiude. Ve lo faccio anche vedere subito. Quando si richiude decidete voi la fuoriuscita di ogni prodotto. Quindi se mettete i croccantini escono i croccantini. Invece se volete mettere l'acqua aprite questo ed esce l'acqua. Mi piaceva questa idea perché in un solo bicchiere avete queste due possibilità di dare da mangiare o da bere al vostro animale. A me è piaciuta tantissimo. Poi il colore era molto bello quindi l'ho voluto prendere tutte e due. Chloe ha il suo zainetto che di solito ci portiamo in giro se la facciamo uscire fuori del mio paese. E mi piaceva tantissimo il fatto che lei aveva le sue cose quindi non doveva toccare niente in giro. Io sono molto un po' schizzinosa per quanto riguarda lei. Perché voglio che lei ha tutto il suo necessario senza problemi e senza niente. E questo prodotto l'ho pagato 6 euro. Andiamo avanti. Sempre per i miei ragazzi gli ho preso queste due bottiglie piccoline. Queste sono delle bottiglie di 350 ml di acqua diciamo. E le ho volute prendere perché avendo loro tutte e due la macchina spesso capita che quando sono in giro non bevono oppure vanno a comprarsi le bottigliette e perdono tempo. Io queste le farò mettere in macchina perché vi posso assicurare che io me la porto dietro la mia bottiglia più grande. Io gli metto l'acqua e vi posso dire che anche dopo un paio d'ore l'acqua è sempre fresca. Quindi questa la mettono, l'avete presente? Dove appoggiate il braccio? Se non mi sbaglio dove appoggiate il braccio che aprite c'è una specie di cassetto verticale dove diciamo rimane un pochettino più fresco. Tipo una specie di figurifero. E quindi loro metteranno la loro bottiglia da dentro. L'ho presa tutte e due della Marvel perché tutte e due sono appassionate di film della Marvel e quindi gliel'ho preso uguale. E niente queste bottiglie venivano 7 euro ciascuno. Poi ho preso, dopo ho preso un prodotto per quanto riguarda i capelli che si chiama Cure at Definition. E niente, è 200 ml di prodotto. Volevo provarlo perché vedo molte persone americane che utilizzano queste creme per i capelli di Primark e si trovano benissimo. Questa è proprio una crema per i capelli, c'è scritto. Puoi applicare su capelli asciutti o umidi. Realizza acconciature desiderate. Vabbè io la voglio provare a vedere anche come mi trovo. L'ho pagata 3 euro ed è questa con la bocciottina olografica e molto carina. Poi per stare sempre a tema per quanto riguarda pennelli, avevo fatto un real su TikTok per quanto riguarda i pennelli. Anzi se volete fare lo stitch con me, fatelo. Non mi ricordo se si dice stitch. A me piace tantissimo questo social e lo sto utilizzando ovviamente per cose futili come il make-up e queste cose qua. Comunque ho preso questo pennello perché il prossimo anno ovviamente ormai l'estate sta finendo, o meno così dicono. Qui no, la Sicilia è l'ultima che saluta il sole, si può dire. Qui l'estate finisce sempre dopo tutto il resto. Riusciranno i nostri eroi? Allora, ho preso questo pennello che è gigantesco e ve lo faccio vedere perché il prossimo anno se mi abbronzerò voglio mettere tipo le creme o i prodotti proprio per quanto riguarda il corpo. Questo è il pennello, così l'ha fatto anche Kiko, se non mi sbaglio, Essence e Catrice. Comunque, vabbè ce l'avevo con che pelo un po'. Ha le setole rosa, è bellissimo. E poi ha la ghiera, che è una specie di rose gold. Ed è bellissimo ed è morbidissimo. Molto molto morbido, bello. Io adesso lo lavo, lo conservo e poi quando avrò l'occasione lo utilizzerò. Sapete quando avete quei stiti scollati e volete tipo tutto qui, l'effetto glitter e ve lo mettete. Oddio. Sì, mi piaccia tanto. Io sono per questi prodotti perché mi piacciono tantissimo. E questo, sinceramente il prezzo era un po' alto. L'ho pagato 6 euro. Questo è il prezzo 6 euro. Bene ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda acquisti fatti da Primark. Non è un video haul grandissimo perché vi ho fatto la parte di stitch a parte. La parte di stitch a parte. Perché sinceramente ho una fissazione con questo personaggio e quindi volevo farvi il video direttamente, cioè singolarmente. Ditemi cosa ne pensate dei miei acquisti se vi piacciono i jeans. Se avete comprato abbigliamento, io di solito ho comprato soltanto ed esclusivamente o pigiami o magliette. Non avevo mai acquistato dei jeans. Mi sono trovata bene e quindi voglio sapere da voi cosa acquistate di più per quanto riguarda Primark. Scrivetelo giù nei commenti perché sono molto, ma molto, ma molto curiosa di sapere cosa acquistate voi spesso da Primark. Per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!